Il Comune di Castellabate ha ufficialmente lanciato il programma Castellabate di Notte, il servizio di navetta serale che coprirà l'intero territorio dal 15 luglio al 3 settembre prossimi. Dalle frazioni di Lago, Alano, Santa Maria, San Marco, Castellabate, Capoluogo e Dogliastro Marina, dalla prima corsa delle ore 20.40 fino all'ultima delle ore e mezza notte 10, il servizio garantirà a cittadini e turisti di muoversi con maggior facilità e velocità utilizzando le diverse fermate messe a disposizione. Tale attività mette in collegamento le varie località del Comune di Castellabate a costo di 2 euro per singola corsa con la possibilità di poter acquistare il proprio titolo di viaggio direttamente e comodamente al momento della partenza sul bus. Inoltre è stato implementato anche il servizio che mette in collegamento Castellabate con la stazione ferroviaria di Agropoli al costo di 2,50 euro. Tutti gli orari sono consultabili sul sito ufficiale dell'ente. Anche per quest'estate 2024, oltre al tradizionale servizio diurno, abbiamo deciso di implementare tale attività di navetta anche nelle ore più frequentate, quelle serali, afferma il sindaco di Castellabate Marco Rizzo. In questo modo, prosegue Rizzo, tutti coloro che vorranno spostarsi da una parte all'altra del territorio potranno farlo in sicurezza e tranquillità. Rispetto all'anno precedente, prosegue il primo cittadino, abbiamo migliorato ulteriormente il servizio ampliando le corse ed allungando l'orario di fruizione. Di grande importanza è anche la possibilità di partire ed arrivare dalla stazione ferroviaria di Agropoli, consentendo di raggiungerci agevolmente anche in treno. Con questo servizio potenziato, aggiunge il vice sindaco di Castellabate Luigi Maurano, veniamo incontro alle tante richieste e necessità da parte dei cittadini e turisti che hanno voglia di spostarsi con comodità nelle ore serali sul territorio di Castellabate. Inoltre, continua Maurano, c'è da sottolineare che per il terzo anno di fila verrà garantito il collegamento con la stazione di Agropoli Castellabate, un servizio importante che incrementa ancora di più le opportunità turistiche del territorio. Tali attività, finanziate completamente da risorse comunali, rientrano nelle linee programmatiche dell'ente e sono misure fondamentali per lo sviluppo turistico del paese, Chiosa Maurano.